Come sta a cercare, anche dal punto di vista dell'umore? Dell'umore non possiamo essere felici dopo una sconfitta in casa per la spalla, perché è una risposta troppo facile in questo senso. Posso solo dire che abbiamo una grande fortuna, che è quella di poter giocare una partita domani importantissima e cercare di far cambiare, di ritornare a vincere, di fare qualcosa di importante perché è fondamentale e non c'è il tempo tanto di far troppe chiacchiere dietro. Di trovare se stessi, di mettere in campo quella determinazione, quella cattiveria mostrata nell'ultimo periodo, tranne questa ultima gara. Ed Ingeg deve essere uno dei nostri protagonisti, per quello bisogna essere bravi a trascinare il pubblico, di cui avremo un grandissimo bisogno domani, perché al di là che se saranno 30, 35, 40, 50, questa squadra ha bisogno dell'affetto, del sossegno del pubblico, poi è normale che dobbiamo essere bravi noi a trascinarli con la prestazione e gli atteggiamenti giusti. Grazie. 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 Grazie.